OST 2017 Oggi è il turno di un grande panificatore, si tratta di Nicola Trenting, lui lavora a Cittadella in provincia di Padova, è una persona che ha inventato la bellezza di 40 tipi di pane e oggi ci insegnerà come lavorare con il pane. Oggi abbiamo presentato, abbiamo fatto la rigenerazione di due tipi di pane, un falbo e un sauro, il falbo è un pane fatto con una farina tipo 1 macinata a pietra, il sauro è fatto con una farina integrale sempre macinata a pietra, tutte e due farine prodotte nel nord-est, l'Italia, e entrambi utilizzato a lievito madre. Come attrezzatura abbiamo usato il forno, il Cosmo, che è il forno della Gico, abbiamo utilizzato questo forno perché abbiamo la necessità di mantenere una certa percentuale di umidità all'interno del pane e avere anche una costanza nella temperatura, mi rimanga la temperatura stabile per quanto riguarda la rigenerazione del pane.